Musica Gentili telespettatori di Antenna Sud, cari amici e cari amiche di Antenna Pomeriggio, ben ritrovati. Appuntamento di mercoledì 23 novembre. Moltissimi gli argomenti che tratteremo anche con un occhio oggi alla solidarietà parlandovi di un percorso che abbiamo cominciato qui ad Antenna Sud. Però tante notizie dal territorio. Ieri in apertura vi avevo parlato dell'alerta meteo che era preannunciata sulle nostre regioni, in particolare al sud. Come sapete le notizie non sono affatto buone, soprattutto quelle che arrivano dalla Sicilia. Notizie invece di danni ingenti nella zona ionica della nostra regione. Invece arrivano dalla Puglia, i sindaci sono già sul piede di guerra. Alcuni proclamano lo sciopero della fame. Parliamo per esempio del sindaco di Ginosa, ma nel merito un nostro servizio vi spiegherà quello che sta accadendo. Sicuramente l'avversità meteorologica ha messo veramente in ginocchio una zona strategica per la nostra agricoltura. Ma passiamo ad un'altra notizia. Come avete sentito la Puglia scenderà in piazza il prossimo 3 dicembre per affermare la sua battaglia contro la ricerca di idrocarburi, petrolio per dirla facile, nel nostro mare. Da ieri la questione è l'attenzione del neoministro all'ambiente Corrado Clini, ma è importante che in questa fase soprattutto i cittadini facciano la loro parte. Anche a dispetto di accordi presi sconsideratamente qualche anno fa, civilmente bisogna unirsi alla battaglia portata avanti dalla regione Puglia e raccontata a più riprese anche attraverso i nostri microfoni dall'assessore regionale all'ambiente Lorenzo Onicastro, che parte da un assunto chiarissimo e condivisibile che ogni strategia geoeconomica e geopolitica economica attuata per la regione non può prescindere dalla condivisione del popolo della Puglia. E noi siamo assolutamente d'accordo con questo principio. Il nostro mare, uno dei tesori di Puglia, non può essere con così tanta facilità dominato da supremazie esterne potenzialmente ed effettivamente pericolose per la sostenibilità del suo futuro ambientale, sociale ed economico. Per una regione evocata al turismo poi sarebbe un disastro, ma per davvero. Per una regione che quotidianamente si suda la sua territorialità sarebbe come affidare a mani straniere il futuro e la ricchezza del suo bene più piezioso. E questo non si può fare. Perciò dobbiamo scendere in piazza, esercitare il nostro diritto da pugliesi affinché il governo, gli stati membri dell'Unione Europea e le istituzioni economiche internazionali si convincano che gli orizzonti pugliesi, fino a quando non lo decideremo noi tutti insieme, dovranno restare liberi, a disposizione di tutti, grandi e piccini, senza vincoli e predomini. Cominciamo Antenna pomeriggio, anche oggi, dando la linea al CNR per le notizie dall'Italia e dal mondo e poi subito dopo ci ritroviamo qui negli studi di Antenna Sud. Eccoci pronti a stare insieme a voi e a dare il benvenuto per cominciare ad Antonio Stornaiolo. Buon pomeriggio Anna Maria, buon pomeriggio a tutte quante voi, a tutti quanti voi ben ritrovati, un'altra giornata da trascorrere insieme, da commentare insieme naturalmente col vostro aiuto e soprattutto con la possibilità di poter aggiungere qualcosa a tutto quanto detto sinora. Le mie domande di oggi sono tassative, velocissime. La prima è per scoprire come la pensiamo relativamente ad un'affermazione fatta dal nostro Presidente della Repubblica ieri che a proposito dei figli degli immigrati nati in Italia ha detto ma quelli sono italiani al 100%, quindi devono avere la cittadinanza italiana. Siete d'accordo con questa frase del Presidente della Repubblica? Per voi chi nasce in Italia è italiano, pure se è figlio di un migrante. Seconda domanda invece, se è più facile e più semplice, arriva il Natale, io non so che regali fare, ma di solito regalo libri. Mi consigliate un buon titolo? Beh, buone le domande anche interessanti. Posso rispondere io alla prima? Eh, certo. Sì. Sì, sono italiani e sicuramente non sono padani. Sì, infatti, sono italiani e grazie a Dio non sono padani. E grazie a Dio non sono padani. Anche se nascono a Bergamo. Anche se nascono a Bergamo. Buon pomeriggio Adeli Parlavecchia. Buon pomeriggio. Allora, aspettiamo subito le risposte immediate, però ci piacerebbe oltre che a ricevere risposte arrivassero anche commenti, perché i nostri amici sono anche abituati a circostanziare le loro affermazioni e quindi Eli trasferisce alla rete le domande di Antonio. E noi aspettiamo eventualmente le vostre telefonate. Vi ricordo a questo punto il numero verde gratuito che è l'800 098 729 per intervenire in diretta. Io dico sempre che l'invito è rivolto ai meno timidi, a coloro che possono confrontarsi con lo spirito di una trasmissione in diretta. La televisione, si sa, crea un certo imbarazzo. Ma tra l'altro oggi sarebbe giusto e coerente che voi ci chiamaste o ci mandaste dei messaggi attraverso la rete dalle zone alluvionate di Puglia, quelle del Tarantino, quelle della Costa Ionica, perché sappiamo che lì la situazione davvero non è delle migliori. Avere da voi le notizie in diretta per sapere cosa sta accadendo in Puglia, in quella parte di Puglia, in questo momento sarebbe per noi di grande aiuto e soprattutto di grande efficacia come servizio pubblico da poter poi girare a tutti quanti gli altri telespettatori. Sicuramente questo è il momento della conta dei primi danni e dei danni, ci auguriamo che restino tali perché per nostra informazione al momento la situazione meteorologica non desta preoccupazioni. Poco fa ci siamo aggiornati e non sta piovendo, però purtroppo si attende una nuova perturbazione per questo pomeriggio e quindi sicuramente saranno in allerta, così come tra l'altro avevamo preannunciato proprio ieri, poco prima delle 14, la protezione civile aveva lanciato un'allerta meteo moderata per la nostra regione. Sappiamo bene che invece qualcosa di molto più grave, anche devastante e poco prevedibile per come ci ha raccontato la protezione civile è accaduto in Sicilia. Eh sì, ci sono addirittura delle vittime, tra cui un bimbo di 10 anni. Sorpresi tra l'altro nella propria abitazione, quindi anche il dover pensare all'incoscienza di essere nei pressi di un torrente o in una situazione precaria, invece no, erano tranquillamente nella loro casa. Quindi è veramente... È una tragedia non prevedibile, ma io direi come al solito annunciata, perché è inutile negare che molti siti... Non prevedibile scientificamente. È non prevedibile scientificamente, però è inutile negarlo. Molti siti sono posizionati in zone nelle quali dovrebbero esserci solo campi arati o campi con alberi proprio per evitare le esondazioni di fiumi e torrenti. Purtroppo la sperequazione edilizia che è stata fatta in questi anni ha portato, porta poi a queste tragedie per tornare a noi in Puglia e per ripuntare l'obiettivo verso il Tarantino. Sappiamo che molti sindaci di quelle parti si stanno dando da fare per reclamare attenzione da parte della regione e dello Stato. Tra l'altro giustamente stanno affidando in queste ore le loro decisioni anche alla rete. Sappiamo che attraverso il sito di Terre Ioniche si comincerà con il principio dello streaming a raccontare agli internauti che cosa sta accadendo, ma soprattutto le volontà di coloro che attraverso uno sciopero della fame rivendicano un'assistenza ovviamente all'indomani di quanto accaduto. Io però vorrei aprire una parentesi, prima di dare la linea alla pubblicità, visto che in questo momento diciamo in Antenna Pomeriggio un po' commentiamo i fatti anche nazionali, una parentesi su un processo che si sta celebrando a Milano, quello famosissimo dell'inchiesta Rubi. In questi giorni si sta parlando moltissimo di questa sfilata di VIP e di donne e io ovviamente non ho voluto far retorica nell'esprimermi su alcuni concetti che sono venuti fuori, anche su molte posizioni, però brevissimamente mi piacerebbe anche che i nostri amici della rete commentassero. Vorrei dire qualcosa riguardo alla questione di queste donne che sono vittime e parti offese, ovviamente condannando assolutamente in maniera decisa il sistema, il meccanismo che vedeva il nostro premier impelagato in certe vicende, io però prenderei le distanze dal concetto di donne vittime in questo senso, lo farei personalmente, insomma non credo che queste signorine per 7 mila euro diciamo ad incontro o per favori diffusi debbano considerarsi vittime, credo che le donne tra l'altro molto più degli uomini anche in fase proprio di crescita adolescenziale sviluppino una maturità e un decisionismo diciamo prevalente rispetto al genere maschile, non per essere, non per fare differenziazioni, quindi le nostre signorine sapevano benissimo in quel momento qual era la scelta che facevano e se erano vittime o no, o parti offese o no, sicuramente una parte di responsabilità va attribuita anche a loro perché quando gli inviti vengono fatti si è sempre liberi di declinarli e di non ricevere soprattutto dopo l'invito pagamenti o favori, quindi... Beh benissimo, però siccome noi siamo sempre a favore delle donne, diciamo possiamo mettiamo come direbbe il ministro Tremonti, mettiamola giù dura così, ovvero queste signorine non sono state vittime di un sistema ma comunque ostaggio di un meccanismo che spesso le ha ritrovate insomma... Diciamo che personalmente sono dalla parte di quelle donne che abbiamo anche ricevuto spesso nei nostri studi che detengono posizioni che si sono guadagnate attraverso lo studio, attraverso tanti sacrifici che sono sottopagate, che fanno una vita molto complicata, che 7 mila euro non li vedono neanche con il binocolo e quindi bisogna prendere insomma, ricevere anche una lezione da questa cosa. Cambiamo rotta e invece voglio ricordare innanzitutto ieri 22 novembre ricorreva l'anniversario dell'uccisione, dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy in quel di Dallas, pur ricordando il grande uomo la notazione da fare che dopo 48 anni ancora non abbiamo capito chi ha compiuto quell'assassinio, non si sa se è la mafia, non si sa se è la CIA, non si sa se è stato Oswald da solo eccetera eccetera. Questa è una grande crepa della democrazia occidentale che se ne dica non sapere dopo 48 anni chi ha fatto fuori Kennedy. Gli archivi di Stato naturalmente non per ora non sono aperti, quindi non possiamo sapere quale fu davvero l'esito delle indagini e un po' di amaro in bocca rimane per questa figura che ormai per noi è diventata quasi mitologica e che rappresenta da sempre da questa parte del mondo un baluardo della democrazia, nonostante Kennedy sappiamo benissimo fosse una personalità abbastanza insomma come posso dire problematica in tutti i sensi. La seconda cosa, ho appena visto in onda ieri uno spot molto bello dei sacerdoti italiani www.sacerdotitaliani.it, beh in questo spot si dice una frase molto bella, per uno che sbaglia ce ne sono cento che fanno bene e del bene e quindi in questo senso vorrei riportarlo qui a tutti quanti voi, se avete voglia parliamone, ma è proprio vero che per ogni sacerdote che dimentica cadaveri nei sottotetti delle chiese, per ogni sacerdote che si macchia, si infanga della colpa della pedofilia eccetera eccetera eccetera, ce ne sono poi dieci, cento, mille, diecimila che invece portano avanti la loro missione con grande abnegazione e con un grande spirito cristiano e quindi per fare cronaca ogni tanto bisogna dire il contrario, cioè che ci sono dei sacerdoti, tantissimi sacerdoti buoni. Prima di andare in pubblicità a questo punto mi ricollego ad Antonio. Eh ma non la finiamo più oggi, abbiamo tutti da dire direttora, appena si comincia. Eh no ma perché mi hai fatto ricordare una cosa che invece dovevo dire, volevo dire, che dieci anni fa moriva assassinata una grande giornalista, Maria Grazia Cutuli, inviata del Corriere della Sera, una giornalista di guerra, una grande donna e quindi era solo un piccolo omaggio circoscritto. Certo, un altro memo da tenere nella nostra agenda dei personaggi eroci di questa terra. Andiamo in pubblicità, noi ci ritroviamo fra tre minuti per cominciare innanzitutto dai vostri commenti. Oggi cambiamo un po' la scaletta e tra l'altro raccontarvi in attesa dei nostri ospiti le prime notizie che arrivano dal nostro territorio. Però sto fatto dell'agendina iniziale, non è male che ognuno ricorda all'altro qualcosa, questi appunti di inizio trasmissione. Non è vero, è provvidenziale questo metodo perché col passare del tempo è facile dimenticare. No, no, però va bene così. Tra l'altro ospiti oggi della nostra trasmissione un grandissimo attore, Gennaro Cannavaciuolo, un grande, basti dire che è stato per quattro anni allievo di Edoardo De Filippo, pupillo di Pupella Maggio, quindi oggi avremo la possibilità di offrirvi anche cinque minuti di cultura con la C maiuscola. Andiamo in pubblicità, ci ritroviamo fra tre minuti, stay with us. Eccoci in studio, siamo un po' acciaccati oggi. Un po' acciaccati, ma quella è l'umidità. Quella è l'umidità di questi giorni, piombata. Tu che cosa hai? Io sinceramente sto avendo delle gioiosissime vertigini e soprattutto ho questa parte del collo, mostro, ecco qua, vedete qua, tutto qua, qua, così, proprio come se qualcuno con un martello continuasse a fare così proprio, quindi non sono in ottima forma. Io ho un mal di testa con un tantino di vertigini, Eli tu c'è qualcosa? Eli tu che offri? Il ginocchio che non riesco proprio a piegarlo. Ci sta, ci sta, le giunture che non funzionano, è l'umido, tranquillo è l'umido, o resistete o vi mettete gli impacchi caldi oppure date fondo agli antinfiammatori. No, 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 no. Quello così è. Eli sentiamo innanzitutto i nostri amici a casa che cosa dicono. Allora, innanzitutto hanno subito proposto due titoli di libri, perché Antonio aveva chiesto di suggerire i titoli di libri da regalare per Natale, Valentina dice se per una donna Bruno Vespa ha questo amore. Senti Valentina, ma neanche se proprio, cioè regalare un libro di Bruno Vespa, io non lo faccio neanche se, però può essere un'idea. E invece per un uomo propone il libro di James Frey in un milione di piccoli pezzi e dice che è una storia stupenda, in realtà è la storia di un uomo vittima dell'alcol e dopo essere stato in una clinica del Minnesota, lui riesce comunque a ritornare a nuova vita, ma non solo per la clinica, perché conosce una donna, quindi diciamo che questo forse è più... Questo ci sta, Valentina, questo come invito lo racconto, grazie. Mentre a proposito del processo Rubia, Milano e tutto il resto, Angelo dice che sono più diciamo, sono peggio di lui perché usa un termine, non proprio consono, e quindi secondo lui evidentemente queste donne sapevano benissimo quello che stavano facendo e sono peggio di chi le ha assoldate. Beh, peggio, adesso non esageriamo amico mio. Peggio no, uguali, ma no peggio, peggio non si può dire di una donna, di una donna non si deve mai dire peggio. Allerta meteo, invece Agostino dice, al nord l'inclemenza della natura al sud diventa l'abusivismo dell'uomo, anche in questo si vede quanto il sud sia rimasto colonia dopo 150 anni. Anche su questo io un appuntino ce l'avrei da fare perché i fatti accaduti a Genova dimostrano invece che anche al nord è la stessa cosa, cioè c'è grande incuria nel dare licenze edilizia eccetera eccetera. Quindi su questo purtroppo l'Italia è davvero unita sia al nord che al sud, si sono fatti degli scempi geonaturali pazzeschi e quindi spesso quando piove poi capitano queste tragedie. Ma continuate a scriverci, i temi sono tanti. Sì, continuate a scrivere perché così sembra che vi rimproveriamo ogni cosa che dite, diciamo la nostra, ma è un modo per dialogare, per carità, quindi voi continuate a dirci come la pensate. E se volete chiamate, perché insomma gli argomenti sono di discussione vivace. Antonio Prima ha annunciato il nostro primo ospite, vi ha parlato di un grande attore, vi ha fatto dei nomi che si collegano a lui, che rappresentano il grande teatro italiano e quindi noi ve lo presentiamo e ve lo facciamo conoscere perché è qui in Puglia e lo accogliamo. E' Gennaro Cannavacciuolo, buon pomeriggio, eccolo qui con noi. Buon pomeriggio, grazie. Grazie per essere qui. No, grazie a voi per le belle parole. Si accomodi sul nostro sgabello scomodissimo, noi lo diciamo a tutti, però insomma è quasi una prova. Comodo. Allora, intanto è un grande piacere averla con noi e anche parlare non solo del suo impegno artistico che tutti conoscono, ma anche di un impegno discreto, di grande solidarietà che la vede protagonista. Partiamo da questo, per arrivare poi in maniera più rilassata alla sua bravura, alle sue capacità interpretative e anche al teatro che sa fare. Cannavacciuolo in questi giorni è in Puglia per le repliche di uno spettacolo volare omaggio a Domenico Modugno dedicato all'AIRC e quindi ad un impegno fortissimo verso un'associazione che lotta contro i tumori e che soprattutto si impegna nei temi della prevenzione. Io direi che questo è molto più importante, parlare di questo che della carriera, perché in questo momento c'è bisogno di solidarietà. Ho iniziato questa meravigliosa esperienza quest'estate con l'associazione AIRC di Bari, presieduta da Michele Milabella. e abbiamo cominciato a fare delle piazze, noi le chiamiamo piazze, cominciando da alcune puntate con le cento fattorie, no, no, masserie, di Crispiano. Abbiamo debutato a Crispiano, poi abbiamo fatto la serba di Fasano, ieri l'altro siamo stati a Foggia al Teatro del Fuoco e ieri sera un grande successo al Politeama Greco di Lecce. Io sono molto felice, già venivo da esperienze passate con altre associazioni, ma devo dire che questa, non perché gli altri non lo siano, ma questa è veramente una vera, autentica, a scopo benefico. Il suo impegno da cosa è nato? Oltre ad un fatto sicuramente istintivo di propensione verso l'altro, l'altro c'è stato un elemento particolare? Ma l'impegno nasce sicuramente da, come dice lei, da un istinto e poi purtroppo nasce anche da qualche esperienza negativa che tu vivi in famiglia e allora la sofferenza, quando vedi la sofferenza vis-à-vis da vicino, quando capisci che cosa può essere quella sofferenza e quando capisci che tu hai le possibilità, per fortuna, di fare un lavoro che può aiutare, allora lo metti a disposizione e quindi sono molto felice. Antonio, abbiamo la prima cosa che devo chiedere a Cannavacciolo, perché un giovane ragazzo originario di Pozzuolo, io la ringrazio per il giovane ragazzo, questa mattina sono appena arrivato dal viaggio, sono senza trucco, non sono bello come voi. Siccome anch'io sono napoletano, però non ricordo bene, perché mamma lo dice, noi abbiamo una mosca che sta girando per i studi, ogni tanto ci vedete che agitiamo le mani verso i nostri volte. Ma la mosca o il moscone buone notizie? Il moscone, la mosca è semplicemente a rompire le scatole. Ah, non è niente, quindi la possiamo fare fuori al momento, questa maledetta che sta ronzando, quindi la mosca non porta notizie, niente? No, non è niente, è scucciante e basta. È scucciante e basta, infatti io lo sapevo, perché mamma quando vedevo il moscone facevo eh, buone notizie. Il moscone sì, la mosca no. La mosca no, benissimo. Parliamo d'altro. Parliamo di lei, di questa straordinaria carriera cominciata sotto legida del nome del teatro italiano, ovvero Edoardo De Filippo. Lei ha praticamente vissuto gli ultimi anni della carriera di questo grandissimo interprete e drammaturgo italiano. Naturalmente noi qua abbiamo un po' di tempo. Come ha conosciuto De Filippo e come ha convinto De Filippo a fare in modo che Cannavaciolo facesse parte della sua compagnia? Perché ho conosciuto Antonio Casagrande, che è stato un altro grande interprete ed eduardiano e lui mi ha raccontato il suo percorso, però era un percorso naturalmente che girava intorno agli anni 50, era un De Filippo diverso quello. De Filippo diverso. Io ho conosciuto De Filippo agli ultimi anni della sua vita, ma è stato un po' casuale la cosa. Dunque io già avevo avuto un'esperienza importante con la grande pupella Maggio, con la quale poi ho condiviso un'amicizia durata 24 anni. No, nel 1980 Edoardo chiude la sua carriera e forma la compagnia del figlio, compagnia di Luca De Filippo, e cercava una comparsa, una comparsa speciale però che sapesse fare un movimento di una certa tarantella. Ecco, però non c'era ruolo, era una comparsa, una figurazione speciale. Io avevo già debuttato in teatro, avevo già fatto delle particine, però lui mi disse, quando ci incontrammo mi chiamarono e lui mi disse, voi sapete fare questo passo? Io non lo sapevo fare, dissi, dissi. Naturalmente. Allora, comunque il passo me lo insegnarono, riuscì a farlo e poi lui mi disse, non c'è una parte recitata, però io vi inventerò un ruolo mutuo, vi farò varie uscite. Io accettai e lui apprezzò molto che un attore avesse accettato una comparsa. E come ogni favola bella, dopo 15 giorni si ammala un attore che faceva due ruoli importanti e io ho sostituito quest'attore. La gioia nasce sempre dalle disgrazie degli altri. Però poi il mio collega è guarito. Io feci in tre ore questa sostituzione, Edoardo scrisse questo ordine del giorno e scrisse ringrazio questo giovane attore per aver fatto ben due sostituzioni e per l'impegno e non finisce qui. Non finisce qui e poi il mio ruolo in quella compagnia durò per quattro anni. E sono stato fino alla fine quando lui è andato via. Naturalmente una grande scuola, proprio sulle tavole del palcoscenico si impara molto di più che in altri luoghi. E io ho avuto due genitori adottivi come Edoardo e Pubella che vuoi di più dalla vita. Ma questo però l'è valso naturalmente una carriera, ripeto, assai ricca che spazia poi dalla commedia alla televisione ma anche all'operetta. Che non è facile, che la cosa che uno dice dice ma l'operetta forse è tra le cose più complesse. È vero o no? Beh però io ho poi avuto l'incontro con Savero Marconi, quindi con la compagnia dell'Arancio, ho fatto la prima edizione del musical cabaret italiano in collaborazione con gli americani e quindi poi mi hanno chiamato al teatro libico e sapendo cantare, ballare, recitare senza aver fatto scuola, ma avendo rubato, ho fatto anche l'operetta. L'ultima è stata al teatro San Carlo di Napoli, L'Avedo Vallegra, con la regia di Federico Tiesi. Cosa manca al teatro italiano per ritrovare una dignità a volte persa? Mancano purtroppo i maestri, i maestri non ci sono più, si fa sempre più fatica a trovarli, la televisione ha rovinato un po' il concetto del teatro, perché molti giovani oggi dicono voglio fare il teatro, però confondono, quindi mancano i maestri e purtroppo non ce ne sono, se ne contano proprio sulle dita di una mano, che Dio ce li conservi ancora per lunga vita. Per chi le chiedesse un consiglio sensato, cioè non di quelli che abbiamo detto prima che vogliono fare il teatro, ma quelli farebbero pure la televisione, ma quelli farebbero pure le comparse nel cinema, quelli farebbero innanzitutto il grande fratello, togliendo quelli là, quelli che invece poi davvero hanno un piccolo talento da coltivare o una passione, lei che consiglio darebbe a questo? No, intanto devono capire che non è un mestiere semplice, è un mestiere che comporta molti sacrifici, molte fatiche, molta serietà e come diceva Edoardo, il teatro è gelo, nel senso che è sacro, lui ha considerato sempre il palcoscenico come il teatro, come un luogo sacro, quindi è una cosa seria, bisogna lavorare, bisogna studiare, studiare, studiare. Durante le sue lunghissime tournée, la sera è sogno, perché c'è rapporto col pubblico, durante il giorno un po' di noia oppure... Ma guarda, durante il giorno ti raccomando sempre a qualcuno che sta più su, per farti arrivare la sera, soprattutto nel mio caso, adesso faccio uno spettacolo molto faticoso, dedicato a Modugno, sono due ore di canzoni, con un trio, quindi durante il giorno io lavoro, mi preparo per essere al 100% su, perché io lo dico anche molto ironicamente, io lavoro senza additivi chimici, quindi lavoro naturalmente, quindi il mio additivo chimico è un doppio caffè prima di andare in scena, quindi durante il giorno non mi annoio, poi studio, insomma lavoro per i prossimi progetti. Insomma tutta la giornata passa per arrivare all'ora di convocazione in teatro. E poi mi piace comunque fare anche delle cose normali, uscire a fare... No, shopping no, faccio a space. A space? Un cucino e mi preparo... E dove cucinate? Scusate, se voi state in turnip? No, per esempio adesso io starò tre settimane a Catania, ho un appartamento, mi organizzo, certo quando stai un giorno non c'è, non vale la pena. E certo, è un po' difficile. Però ti passa la giornata che devi viaggiare, il viaggio che ti massacra, l'albergo, devi riposarti, poi vai in teatro alle 5, fai esercizio fisico, vocalizzi. E poi diciamolo, insomma, il corrispettivo economico di tutto questo sacrificio per chi fa teatro non è poi così, eh? E quindi è veramente sacrificio, è veramente grande amore. Purtroppo le passioni non vanno mai retribuite. Eh, e quindi... Sì, però danno la gioia di vivere, massimo, ma io sono felice perché faccio quello che voglio, ecco. Noi ringraziamo Gennaro Carnavacciolo per essere stato con noi, per averci raccontato un po' di lui, ma soprattutto per il suo impegno di solidarietà verso l'AIRC, che tra l'altro avremo modo di raccontarvi in maniera più specifica anche attraverso degli speciali legati alla nostra trasmissione. Salve, dottore, di cui si approprierà Antonio con il professor Mirabella. Sempre sia lodato il professor Mirabella, ovunque gli sia. Sì, che sarà il nostro ospite venerdì prossimo. Insieme al professor Mirabella abbiamo avuto in studio anche il dottor Marcello Chiepo, un immunologo che ha vinto un progetto finanziato proprio dall'AIRC per la ricerca sui tumori del colon. È una ricerca che si svolge qui in Puglia e quindi faremo quattro belle chiacchiere per capire quanto sia importante la ricerca, quanto sia importante la prevenzione e perché no anche l'assistenza ai malati. E l'impegno, come quello di Gennaro Cannavaciolo. Grazie per essere stato con noi. Andiamo con la sigla delle notizie. Cominciamo dal primo servizio. L'ospedale San Raffaele si farà a Taranto, ma senza il contributo della Fondazione Don Verze di Milano. E' questa la decisione che la Regione Puglia è ormai pronta a prendere e confermata anche dal governatore Vendola, il nostro servizio. Si farà all'ospedale San Raffaele a Taranto, ma senza il contributo scientifico della omonima Fondazione Milanese di Don Verze. E questo è un elemento di non poco conto, perché dopo le difficoltà giudiziarie della Fondazione San Raffaele, il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ha deciso di cambiare rotta, pur non dicendo esplicitamente che la Puglia farà a meno dello staff di Don Luigi Verze. Il nuovo complesso ospedaliero nascerà a Taranto, ma sarà tutto pugliese. Ad occuparsene potrebbe essere l'asla di Taranto, una fondazione senza i referenti di Don Verze, mentre la discussione sul futuro ospedale ionico arriverà presto in Consiglio regionale, come ha chiesto il Popolo della Libertà. Non è poi da sottovalutare un altro aspetto sulla realizzazione del San Raffaele Tarantino. Si tratta di alcune incompatibilità urbanistiche rilevate sull'area dove dovrà sorgere la struttura. Nonostante questo, la Regione vuol proseguire dritto. A Taranto, ha detto Vendola, è necessario un nuovo grande ospedale per rispondere alla domanda di cura delle malattie. Dopo il Consiglio Comunale di Polignano, in cui è stato approvato un documento per bloccare la ricerca di petrolio nel Basso Adriatico, dopo un incontro alla Regione Puglia, come vi abbiamo detto in apertura di Antenna Pomeriggio, è stato deciso di organizzare una grande manifestazione di protesta a Monopoli. La data fissata è quella del 3 dicembre. Mauro De Nigris. Una grande manifestazione popolare per dire no alle trivellazioni nel Basso Adriatico. È la prossima mossa che i comitati No Oil e tutela Porto Migiano con il supporto di esponenti politici di tutti gli schieramenti intendono mettere in campo per cercare di bloccare le operazioni che la Nortar Petroleum ha avviato in questi giorni a largo della costa fra Monopoli e Brindisi alla ricerca di petrolio. L'iniziativa è stata decisa dopo un incontro col Presidente del Consiglio regionale, Onofrio in Trona, al quale hanno preso parte anche sei componenti della Giunta Vendola, i capigruppo in regione di PD e PDL, De Caro e Palesa, i parlamentari Zanzara e Servodio e numerosi esponenti politici comunali e regionali. Abbiamo deciso di scendere tutti in piazza per una grande mobilitazione. tutte le associazioni regionali, tutte le istituzioni a livello regionale l'intenzione è quella di contattare e di coinvolgere le scolaresche, gli enti di categoria e tutti i cittadini sensibili a tale tematica. Va dato un segnale forte e chiaro. Ad Armanforte ha l'attività dei comitati, in particolare anche l'assessore regionale alla qualità dell'ambiente Lorenzo Nicasso. Noi ci attrezziamo con mezzi e modalità civili a protestare. Speriamo che sia sufficiente. Se non deve essere sufficiente come coinvolgimento, io penso che sarebbe molto importante per noi riuscire a coinvolgere le istituzioni a tutti i livelli. Quindi penso anche ai nostri diputati e senatori regionali, indipendentemente ovviamente da qualsiasi appartenenza politica, perché qui parliamo della tutela del nostro mare, che è un bene comune, quindi non è una cosa né di destra né di sinistra, ma è una cosa di tutti. Dica la verità, non si sente un po' disarmato in casa sua? Certo che mi sento disarmato in casa mia, lo siamo tutti, lo sono tutti gli assessori regionali all'ambiente d'Italia e all'energia. C'è una carta costituzionale, c'è un riparto di competenze e di potestà legislative. Qui purtroppo si verte in materia di competenze esclusive dallo Stato. Quindi faccio come assessore tutto quello che è il mio potere fare e soprattutto faccio come cittadino pugliese tutto quello che è il mio potere fare e farò sempre tutto e se possibile di più. Novità importanti per quanto riguarda le aree di Bari, dove sorgono la Fibronit, il gasometro e la stazione europea a trasporti. A spiegare gli interventi previsti a breve la consigliera con delega all'ambiente, Maria Maugeri. Ex Fibronit, ex gasometro, ex SET. Tre aree tristemente note, in particolare i cittadini baresi residenti nei quartieri Iapigia e Libertà. Dopo anni e anni di degrado e abbandono, presto saranno definitivamente riqualificate. Ad annunciarlo la consigliera con delega all'ambiente del comune di Bari, Maria Maugeri, che ha spiegato le novità. Per quanto riguarda i lavori alla ex Fibronit, c'è il via libera del Ministero e all'inizio del 2012 si potrà quindi bandire la gara d'appalto per i lavori, mentre nell'area dell'ex gasometro del quartiere Libertà, dopo l'allestimento del cantiere, si potrà procedere alle opere di scavo. Con questo decreto noi possiamo procedere all'acquisizione delle prescrizioni del progetto e soprattutto alla predisposizione del bando di gara. Quindi questa è la prima buona notizia. Poi l'altra riguarda l'altra grande questione di inquinamento, che è l'ex gasometro. Utilizziamo questa conferenza stampa oggi per aggiornare i cittadini, soprattutto quelli che abitano lì attorno, che tutta la fase iniziale di allestimento del cantiere, attrezzature, è tutta risolta, non ci sono stati problemi di alcun genere, e che quindi a giorni cominceranno gli scavi. Disco verde anche per l'ex set, un'area ademaniale tra Via Napoli e Via Brigata Regina, utilizzata fino al 1980 dalla Società Europea Trasporti, che dopo il definitivo trasferimento al Comune di Bari potrà essere finalmente ripulita da rifiuti di ogni genere. No all'aumento dei costi dei biglietti, e no al taglio indiscriminato dei servizi di trasporto ferroviario. A ribadirlo oggi a Roma, non solo Trenitalia, sarà l'assessore regionale ai trasporti, Guglielmo Minervini. L'incontro è previsto tra meno di mezz'ora. Vediamo. Evitare l'aumento del costo dei biglietti e il taglio dei servizi sono in estrema sintesi gli obiettivi dell'assessore regionale alle infrastrutture, Guglielmo Minervini, che oggi a Roma interverrà durante la Commissione Infrastrutture e Mobilità della Conferenza delle Regioni per difendere i diritti dei pugliesi. Nella capitale è fissato anche un incontro con i vertici di Trenitalia. All'ordine del giorno il taglio è previsto per il prossimo anno del 75% delle risorse destinate al contratto di Trenitalia, che imporrebbero alle regioni aumenti dei biglietti e tali di servizi. Minervini ha proposto e ottenuto l'inserimento nella discussione anche dell'avvertenza ServiRail, azienda che gestisce in appalto da Trenitalia il servizio di accompagnamento notte sulle vetture con cucette letto. Infatti, l'11 dicembre scadranno i contratti per 480 operatori in tutta Italia, 45 in Puglia, e i lavoratori chiedono risposte su un possibile ricollocamento o riassorbimento. L'assessore Minervini, prima della Commissione, incontrerà i vertici di Trenitalia per discutere della nuova offerta sulla lunga percorrenza, che stando alle prime ipotesi penalizzerebbe i collegamenti della Puglia con Roma e il Nord Italia. Veniamo alla seduta odierna del Consiglio regionale pugliese, l'aula a lavoro per varare nuove norme in materia di formazione professionale. E allora ci colleghiamo con la nostra Rosi Coviello per i particolari. Buon pomeriggio, Rosi. Sì, buon pomeriggio, direttora, buon pomeriggio ai telespettatori di Antenna Sud. In aula è in corso il dibattito sulla formazione professionale. Prima c'è stata la lettura dell'assessore regionale al settore, Alba Sasso, nella quale ha tracciato le linee che si dovranno poi seguire per il rinnovo del settore e anche per poterlo collegare ad un sistema produttivo più ampio, ha detto la Sasso. Oggi in realtà Laura era chiamata anche a votare il disegno di legge approvato a maggioranza dalla stessa Commissione proprio sulle procedure di accreditamento degli organismi formativi. In pratica il sistema di accreditamento è accessibile a tutti gli organismi formativi, qualunque sia la loro natura giuridica. Invece prima di questo disegno di legge doveva trattarsi di enti senza fine di lucro. E ancora non più l'applicazione esclusiva dei contratti collettivi della formazione professionale, ma prima dell'approvazione comunque in aula di questo disegno di legge che è probabile non si approvi, l'opposizione di centrodestra si aspettava, così come dichiarato dal capogruppo del PDL Roccopalese, la lettura della relazione sullo stato di salute della formazione professionale in Puglia da parte della Sasso. Di qui la necessità di sospendere per dieci minuti il Consiglio per dare la possibilità poi alla conferenza dei capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio non frintrona di stabilire quello che era l'ordine dei lavori, che poi sono ripresi appunto come già detto con la lettura della relazione da parte dell'assessora Alba Sasso e con il dibattito che qualora poi non dovesse concludersi entro le 15.30 di oggi, quindi ricordiamo che prima era stato fissato il termine ultimo alle 14, poi con la lettura della relazione da parte dell'Alba Sasso il dibattito proseguirà fino alle 15.30, se non si conclude verrà tutto riproposto poi martedì 29 novembre, quindi nella prossima seduta del Consiglio. A seguire il Consiglio poi regionale esaminerà la legge appunto di modifica delle procedure di accreditamento, intanto prima di chiudere vi dico che poi fuori dall'aula c'erano anche i dipendenti della formazione professionale che hanno protestato per i ritardi degli stipendi che in alcuni casi sfiorano anche i 12 mesi. Dall'aula del Consiglio regionale è tutto, poi la linea. Grazie a Rosi Coviello. Cambiamo argomento. In 71 pagine la procura di Taranto per la prima volta mette nero su bianco il ruolo che sia Cosima e sua figlia Sabrina avrebbero avuto nell'omicidio della quindicenne Sara Scazzi. Secondo l'accusa infatti sarebbero state loro a strangolarla in 10 minuti senza che Sara potesse opporre resistenza. Dieci minuti è l'arco temporale in cui è stato compiuto il delitto di Sara Scazzi. In quello spazio di tempo infatti la quindicenne di Avetrana uccise il 26 agosto del 2010 era in compagnia di Cosima e Sabrina ed è quindi chiaro che lo strangolamento di Sara era opera delle due donne. Ne sono convinti il procuratore aggiunto di Taranto Pietro Argentino e il sostituto procuratore Mariano Buccoliero che l'hanno scritto in una memoria di 71 pagine depositata al Tribunale del Riesame che ha discusso l'ordinanza di custodia cautelare per omicidio e sequestro di persona emessa nei confronti di Cosima Serrano e della figlia Sabrina Misseri il 26 maggio scorso. I giudici si sono riservati la decisione che dovrebbe arrivare entro 5 giorni. In teoria a Cosima e Sabrina potrebbero essere concessi gli arresti domiciliari. In pratica nei giorni scorsi sono state rigettate le richieste e madre e figlia sono state rinviate a giudizio due giorni fa insieme ad altre 7 persone. Il processo inizierà il 10 gennaio prossimo davanti alla Corte di Assise di Taranto. Da non sottovalutare anche che come si legge nella perizia del professor Strada Sara sarebbe morta senza opporre resistenza. Una maestra di una scuola elementare della provincia di Bari è indagata per maltrattamenti su minori. Avrebbe picchiato e insultato un suo alunno di 9 anni colpevole solo di aver dimenticato a casa il quaderno con i compiti. Aveva solo dimenticato a casa il quaderno con i compiti ma la punizione è stata esemplare. La maestra lo avrebbe sollevato afferrandolo per una guancia schiaffeggiato sul collo con l'altra mano spinto verso il muro mentre avrebbe continuato a dargli calci al sedere e a deriderlo e insultarlo davanti agli altri bambini. È accaduto in una scuola elementare della Murgia Barese e non sarebbe la prima volta. La maestra è ora indagata per maltrattamenti su minori e rischia l'interdizione e in caso di condanna fino a 5 anni di carcere. La vittima è un bambino cinese di 9 anni. L'episodio si sarebbe verificato un mese fa. Tornato a casa il piccolo ha raccontato tutto alla mamma che l'ha accompagnato in ospedale dove gli sono state riscontrate le lesioni compatibili con gli schiaffi giudicate guaribili in 4 giorni. Ha quindi denunciato la maestra alla polizia che ha avviato le indagini coordinate dalla magistratura barese. Gli inquirenti hanno poi convocato e ascoltato gli altri bambini della stessa classe che hanno confermato l'episodio raccontando alcuni di loro di aver subito trattamenti simili da parte della stessa insegnante. Un imprenditore di Lady Molfetta è stato denunciato alla magistratura dalla Guardia di Finanza. È stato accertato che ha assunto irregolarmente 90 operai e evaso il fisco per circa un milione e mezzo di euro. Un centro di eccellenza per la cura delle infiammazioni intestinali che diventerà punto di riferimento per l'intera regione. L'iniziativa è stata presentata nella sala riunioni del Policlinico di Bari. 8.000 pugliesi due ogni mille sono colpiti da malattie infiammatorie croniche intestinali come il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa patologie per le quali non si muore più ma che rendono molto difficile vivere. Per questo il Policlinico di Bari ha promosso attraverso l'unità operativa di gastroenterologia diretta dal professor Alfredo Di Leo la creazione di un ambulatorio specialistico per la cura delle mici. Molto spesso noi abbiamo che queste malattie o sono evidenti quindi il sangue l'ammalato si preoccupa e va direttamente dal medico quindi il medico mette in moto tutto ciò che serve per fare diagnosi oppure abbiamo delle situazioni in cui ci sta una certo tipo di cronicità c'è la diarrea e altre cose che viene sottovalutata dall'ammalato per esempio nel Crohn il ritardo diagnostico è di circa 5-6 anni quindi significa che noi attraverso collaborando con i medici famiglia sensibilizzando l'opinione pubblica possiamo arrivare a una diagnosi più precoce della malattia l'iniziativa presentata nella sala riunioni del Policlinico è stata realizzata in collaborazione con l'associazione dei malati di queste patologie che colpiscono soprattutto persone tra i 20 e i 40 anni di età soddisfatto anche il direttore generale del Policlinico Vitangelo Dattori che sottolinea l'impatto economico dell'iniziativa in termini di risparmio è di fondamentale importanza per noi dove tutti i pazienti di queste tipologie di malattie possono rivolgersi per avere risposte immediate con i medici e non avere lunghi tempi di attesa che sono sempre un problema una migliore organizzazione che consente anche attraverso delle determinate procedure una presa in carico del paziente meglio dettagliato quindi una gestione più razionale cioè un'eccellenza che si pone anche come ai centri di referi a livello regionale e interregionale appunto Viaggio nell'impresa è un itinerario alla scoperta delle aziende di successo del territorio organizzato da Confindustria Bari e Bat l'iniziativa è partita ieri da un gioiello del settore tecnologico l'elettronica di palo del colle nel Varese il servizio e di Mariella Vitucci Anche in tempi di crisi ci sono aziende locali che investono in ricerca e innovazione che assumono nuovi dipendenti ed ampliano i loro mercati ce le fa conoscere Confindustria Bari e Bat attraverso un viaggio nell'impresa che comincia da palo del colle dalla elettronica Credo che sia anche rientri nei nostri compiti come Confindustria quello di dire di mostrare al territorio quello che noi abbiamo ma soprattutto vogliamo anche stimolare i giovani laureandi che vengono qui che loro possono scommettere su se stessi e quindi andare a provare loro a fare anche attività imprenditoriale con qualche idea che di sicuro hanno Storia di un successo quello della elettronica che parte nel 1988 il suo fondatore e amministratore unico è l'ingegner Raffaele Fasano volontà di ferro fiuto per gli affari dopo la laurea al Politecnico di Torino ha deciso di mettere a frutto il suo cervello nella natia a palo del colle La ditta elettronica non l'ho fatta per fare soldi tutto quello che ho fatto nella mia vita l'ho fatto con una mentalità quella di aiutare il territorio aiutare la gente che mi circonda per quello che io posso da questo spirito è nato quello che è un'attività produttiva dove io ho sempre detto i soldi sono un mezzo non sono un fine L'azienda che da sempre opera nel settore del broadcasting radio televisivo negli anni ha allargato la gamma dei suoi prodotti agli apparecchi elettromedicali e ai precursori sismici prodotti frutto di progetti di ricerca che la elettronica sviluppa anche grazie ai giovani cervelli dell'Università di Bari in azienda c'è un laboratorio destinato ai ricercatori della Facoltà di Ingegneria Elettronica del Politecnico di Bari ed è in corso una sperimentazione nel campo della prevenzione dei terremoti in collaborazione con la Facoltà di Fisica con 57 dipendenti 18 dei quali laureati la elettronica sviluppa un fatturato di 6 milioni e mezzo di euro realizzato per il 75% all'estero in 5 continenti mediante intermediari commerciali società controllate e joint ventures nasce in Puglia il primo contratto di rete nel turismo per valorizzare l'offerta dei servizi alla scoperta di aree rurali un progetto sostenuto da Regione Puglia e Camere di Commercio scopriamo di che cosa si tratta in questo servizio Diana Dalia Turi una piattaforma unica e innovativa in grado di unire prodotti e servizi turistici in ambito rurale dalle masserie ai palazzi padronali dalle torri ai trulli strutture che i turisti del nord Europa continuano ad apprezzare sempre di più scegliendo la Puglia come meta principale per le loro vacanze nasce il primo contratto di rete nel turismo VOMA ovvero Worldwide Masserie Ova Puglia un progetto ambizioso per sostenere la competitività delle imprese turistiche puntando anche alla fruizione e al recupero dei beni in aree rurali noi partiamo dalle masserie perché le masserie oggi rappresentano un grande brand territoriale ormai riconosciuto e il nostro obiettivo con un contratto di rete sulle masserie l'UOMA è quello proprio di garantire la qualità dei servizi è quello di garantire uno standard che ci permetta davvero di portare il mondo in Puglia e la Puglia nel mondo A dare sostegno al progetto per la valorizzazione e il recupero delle masserie di Puglia è il supporto di alcuni enti istituzionali tra cui le Camere di Commercio e l'assessorato regionale al turismo Questo progetto nasce su quattro soggetti forti stanno aderendo molte masserie oltre ai quattro consorzi soggetti multipli che hanno fondato la rete e io credo che operando nel settore del turismo di qualità e del turismo rurale le prospettive siano veramente molto ma molto felici Una gara tra maghi delle applicazioni per i telefonini di ultima generazione che sarà un'anteprima assoluta per l'Italia a Bari alla Fiera del Levante dal 25 al 27 novembre sbarca BIM BIM mi app ne abbiamo parlato una settimana fa proprio nei nostri studi conferenza stampa ufficiale l'abbiamo seguita come avevamo promesso d'altronde dalla Silicon Valley alla Fiera della Fiera del Levante senza scalo il futuro arriva a Bari sotto forma di app per il cellulare possibilmente pronta da vendere si chiama BIMI App è nata in America e nel weekend invaderà il quartiere fieristico la prima gara di idee per programmi per gli smartphone promossa nella sua versione italiana dall'associazione Chiris l'iniziativa è stata presentata nella sala consigliare del comune di Bari la finalità della manifestazione è non esclusivamente tecnica ma è quella di contaminare il territorio barese e di portare qui un evento che nasce a San Francisco proprio creato dal basso per creare un'economia della conoscenza a partire dai bisogni delle persone dalle competenze e dall'innovazione un evento che conferma Bari e la Puglia come uno dei laboratori creativi più attivi in questo momento sul territorio nazionale a Bari effettivamente ci sono una serie di progetti che si stanno sviluppando non solo grazie alla regione Puglia ma anche grazie proprio a questi giovani che stanno cercando di muovere il più possibile quello che loro hanno a disposizione molto spesso partendo proprio da zero perché non hanno neanche le risorse per iniziare però la buona volontà c'è sempre quindi partendo da Bari e partendo dalla Puglia forse riusciremo effettivamente a muovere qualcosa in tutta Italia Andiamo allo spettacolo un grande spettacolo un grande successo ieri sera al teatro team di Bari per il duo comico conosciutissimo e molto apprezzato Ale e Franz La panchina non c'è più ma le risate restano le stesse Alessandro Besentini e Francesco Villa in arte Ale e Franz incarnano sul palco oltre che in televisione tutte le nevrosi del nostro quotidiano soprattutto per quanto riguarda il capitolo rapporto a due a volte amici a volte estranei che non si sopportano ma sempre sul filo dell'ironia e della risata che hanno strappato anche al pubblico del teatro team di Bari eh sì eccoci qui anche questa volta pronti a rinascere orca di una vacca sembra ieri e invece ti ha passato un'altra vita vola il tempo di qui come passa il tempo come passa il tempo vola hanno già iniziato la segnazione delle vite nuove no ma sono ancora in pausa pranzo pranzo ma come io non vedo l'ora di rinascere ma quelli pensano a mangiare non è il momento ma sa com'è il caffè ammazza caffè vincando io ho il numero 176.125 io il 7 il 7 tanti anni di gavetta poi il successo a Zelig nel 2002 quindi i film e gli spettacoli in giro per l'Italia dopo Brindisi Ale e Franz hanno fatto tappa dunque nel capoluogo pugliese con il loro tour aria precaria uno spettacolo adatto ai tempi dicono loro che vuole far sorridere anche chi in fondo da ridere ha davvero poco di questi tempi serve davvero e noi adesso ci fermiamo per tre minuti di pubblicità ci ritroviamo fra pochissimo dunque per presentarvi altri ospiti altre iniziative ma soprattutto per dialogare con voi ad inizio del prossimo blocco sappiamo che c'è una telefonata in attesa cominceremo proprio da questo ben ritrovati siamo pronti a ricominciare da voi perché abbiamo intanto una telefonata in linea e poi vediamo come si movimenta la rete cominciamo da una telespettatrice mi dicono buon pomeriggio pronto? pronta buon pomeriggio con chi parlo? sono Francesca da Bari da Bari ci dica Francesca allora io volevo solo chiedere come si fa a far passare ora le invitate a casa di Berlusconi ammetto che è odiato tutto quello che vuole ma far passare le persone che sono state invitate hanno accettato di andare a casa di Berlusconi da testimoni da invitati a vittime non lo fa me lo dica il signor Stornaioio signora io sono perfettamente d'accordo con lei non mi sono spiegato bene io ho detto quando Anna Maria la direttora ha detto che quelle vittime non erano ma sapevano a cosa andavano incontro io per difendere sino allo strenuo la figura femminile e la donna che è una cosa molto importante da fare in questi tempi ho detto che forse vittime non lo erano sicuramente però forse sono state erano sono ostaggi di un modo di vivere cioè ostaggi ti lo accetta perché io se qualcuno mi dice ti do 7000 euro per venire da me io sono libera di dire sì o no se mi fa comodo vado se non mi fa comodo non vado e questa discussione la fanno chi prima all'epoca io sono andiana ho 67 anni ma mi ricordo quando le femministe dicero ma putero è mio e me lo gestisco io ora che l'utero è diventato di tutti se ne vogliono appropriare allora un po' di dignità un po' di dignità si vuole per la donna che è libera di accettare o non accettare non è la cosa va bene? va benissimo io però sono d'accordo con lei io dicevo solo non è che lo fanno perché sono influenzate da una società dei consumi che ti porta a volere quello che non hai e pur di averlo tu fai anche le cose che non si devono fare io questo dicevo e basta ma per il resto sono perfettamente d'accordo con lei forse mi sono spiegato male non mi basta questo perché sembra vedere che la persona il diavolo tutto quando doveva andartene se n'è andato era Berlusconi ma a me non pare che è cambiata la situazione io ho sempre detto che Berlusconi sarà però tutti quelli che gli girano attorno hanno approfittato approfittano e continueranno ad approfittare della figura di Berlusconi perché lui a me sembra l'unica tempo che sarà politica sarà tutto quello che vuole però ha delle attività ha del lavoro la sua fortuna la facciamo noi a vedere il grande fratello la grande sorella tutte le grandi cassate che fa chi ne la fa la fortuna perché se non ci muove Berlusconi chiude allora siamo noi italiani lei signora lei è molto saggia lei è molto saggia se io sono sempre stata dietro a Fini a chi non voleva l'ex comunità li dobbiamo aiutare a casa loro ora vuole che li prendiamo e gli diamo pure la cittadinanza allora noi che fine faremo tra dieci anni e vent'anni io non mi preoccupo di me ma mi preoccupo che dei miei pochi dei miei figli io sono sempre stata con lui ma adesso che vuole prima li dobbiamo accettare tutti ma benissimo se lavorano a me va bene perché pure mio padre è stato emigrante se ne è andato ha lavorato ha rispettato la terra dove lo ospitava ma adesso che vengono qua devono avere tutti e noi andiamo a finire il fosso i piccini a partire dai miliardi da vendola da tutti quelli che li vogliono vengono lavorano e rispettano le leggi io che mi fanno la casa con il mutuo la pago ma credo che il senso la ricchezza degli altri ma il senso dell'integrazione signora è proprio questo veramente nel senso pratico di vedere questi amici per bene ovviamente parliamo di persone per bene integrati nel nostro contesto lavorativo quindi stiamo parlando di altro ma quando vengono perché qua se lo possono permettere no questo no va bene allora noi giriamo io spero di essermi spiegato un po' di più signora in ogni caso giriamo questo suo pensiero alla rete in modo tale da poter arricchire la discussione in ogni caso davvero grazie per aver telefonato grazie a lei io vi ascolto tutti i giorni a volte sono con voi a volte no però oggi mi hai fatto proprio incazzare lo so ho capito questo l'ho capito l'ho capito chiedo perdono 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 però l'avevo già capito di mio arrivederla stia bene grazie noi ci ricolleghiamo a quanto detto dalla signora perché dalla rete la pensano nella stessa maniera Simona dice credo che possa considerarsi italiano chiunque paghi le tasse e non solo chi è nato qui anche i loro genitori per me sono italiani al 100% questo pensa Simona analisa dice non vedo lo scandalo il problema è rispettare il paese in cui si vive con regole tasse e stile di vita e non imporre il proprio diciamo che sono proprio in linea con quanto detto dalla nostra telespettatrice che ha appena chiamato a proposito invece dei libri dei titoli dei libri da segnalarci e da segnalare ad Antonio come regalo secondo me questo di Filomena potrebbe essere un titolo diciamo condivisibile è il libro una indivisibile di Giorgio Napolitano perché lei dice questo libro tocca gli aspetti salienti di quel processo quello naturalmente della Costituzione della Repubblica la sapiente architettura ideata da Cavour lo slancio eroico suscitato da Garibaldi quindi secondo lei la consapevolezza delle durissime prove che l'Italia è stata costretta a superare e dal momento che siamo in un momento critico scusate il bisticcio di parole in un momento critico di crisi e dice lei diventa un momento anche per leggere questo libro come guardare al passato per capire come andare avanti secondo me ci può stare come indicazione di libro a proposito invece purtroppo dei nubi fragili del maltempo i commenti sono sempre quelli e cioè quello che poi in realtà appena detto il Presidente della Repubblica Napolitano la prevenzione la prevenzione è la cosa fondamentale e secondo i nostri internauti Filomena Giovanni Antonio l'arma vincente lei per esempio Filomena dice che è vero che esiste una protezione civile della regione Puglia però secondo lei bisognerebbe che tutte le forze in campo riuscissero a coordinarsi meglio la protezione civile scrive si basta ma un intervento ben coordinato aiuta e se proprio non si riesce allora a far intervenire chi si è specializzato nell'intervento perché l'importante è intervenire al momento del bisogno e allora caro Antonio a questo punto pensavo alle parole dei nostri amici ma ero già proiettata verso l'altro argomento che vogliamo proporre ai nostri telespettatori che in realtà è un argomento che a quest'ora è d'obbligo ormai ci consente di fare il punto sull'andamento dei mercati nazionali ed europei e per questo ci colleghiamo con Marianna Roglieri che è al telefono buon pomeriggio Marianna buon pomeriggio a voi oggi una voce bella squillante presente insomma Marianna mi è ancora raffreddata diciamo la verità diciamo la verità sì però è molto presente oggi questa voce più presente in studio senti Marianna le borse sono altrettanto raffreddate come te oppure si stanno riscaldando le borse cercano un rimbalzo che stentano a trovare purtroppo le notizie sono sempre quelle poco rassicuranti adesso ci ha messo anche l'altra persona del mondo a preoccuparci perché i dati sulla produzione in Cina pare si siano rallentati pensa cioè pensa rallenta l'economia in Cina che di solito è un'economia dallo sviluppo a doppia cifra figurati noi nella vecchia Europa cosa ci aspetta come si è ammessi poi oggi c'è un altro dato che è quello recupero della panca Dexia che è la panca franco-belga per il quale il stato francese sarà richiesto uno sposto che probabilmente in questo momento non ci voleva ma anche perché i belgi hanno detto che loro non ce la fanno a contribuire come avevano detto e quindi adesso la patata bollente resta quasi tutta in bocca alla Francia o sbaglio? Antonio come no in questo momento in cui sappiamo che gli spread anche sulla Francia sono bollenti e molto volatili diciamo che non ci voleva in più ci sono le parole della Merkel che in qualche modo ha bloccato l'ottava traccia di aiuti per la Grecia e ipotizza un'uscita disordinata della Grecia dall'euro questo ha spaventato non poco i mercati che tentavano di rimbalzare negli ultimi maggiori ma poi ha avuto questa notizia che va al di su della Pari poi viene immediatamente riportato a terra come sempre stiamo alla finestra e guardiamo nella speranza che dopo tutte queste notizie negative giunga qualche notizia positiva che ci permetta un recupero tecnico ecco almeno il rimbalzo tecnico questo è quello che ci aspettiamo dalle borse purtroppo Milano è sempre il Fiume è sempre la maglia nera delle borse europee vedremo 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 lo spread lo spread ormai è sempre come dire si trasforma in maglia rosa speriamo beh speriamo intanto lo spread viaggia verso come al solito attorno ai 500 punti ai 500 punti i titoli pluriennali italiani invece si attestano sul 7% sia quelli a 2 che a 5 anni insomma il problema è sempre la curva dei tassi la curva dei tassi per riprendere un andamento regolare cosa che in questo momento non è stato un modo di risolvere va bene si continua a soffrire tempo augioso su tutte le borse internazionali grazie Marianna noi rinnoviamo l'appuntamento con o la borsa o la vita ogni sabato alle 14.35 ogni domenica alle 13.25 noi a questo punto ci fermiamo per 3 minuti ci ritroviamo subito dopo per raccogliere ancora degli ospiti vengono d'accordato ci parlano di una iniziativa che non è solo circoscritta alla BAT ma che attraversa la rete e non iniziativa indirizzata ai giovani fatta da giovani sapete che questo momento basso di antenna pomeriggio è dedicato alle giovani leve e quindi aspetta lo spiega che è una definizione giornalistica momento basso infatti perché sono sempre un momento basso di contenuti si usa nella stesura dei menabò dei giornali delle scalette di dire che il momento basso apertura basso insomma ci avviamo alla conclusione in maniera dolce propositiva fidandoci alle parole e ai progetti dei nostri giovani benissimo e ne presenteremo due tra pochissimo ci ritroviamo 3 minuti stay with us rieccoci in studio pronti a presentarvi e a salutare i nostri due giovani ospiti che sono accanto a me Rocco Fusco che insomma rappresenta la direzione del Public Jubilee di Corato e poi accanto ad Antonio Claudia Serio è l'erro direttrice artista Claudia Claudia l'erro è come che ho letto serio perché sono anche seria e quindi sì sì ma comunque Claudia l'erro Claudia l'erro direttrice artistica di Coraton 2011 proprio di questa manifestazione che ha anche uno scopo benefico e quindi in qualche modo vedete le nostre ospitate e gli argomenti che vi proponiamo ritornano ritornano sul filo appunto della solidarietà ma anche dei grandi artisti che affolleranno questa manifestazione 2011 facciamo nomi come Andrea Cosentino come regista Pippo Mezzapesa ma anche Radio Derwish insomma di che cosa dobbiamo parlare i nostri telespettatori sì dicevi bene tu quando dicevi che è uno spettacolo soprattutto fatto per la beneficenza anzi è assolutamente questo lo spirito della manifestazione tanto che è nato con gli artisti locali che si mettevano a disposizione della serata per fare beneficenza poi all'ottava edizione che è appunto questa abbiamo pensato di ospitare anche dei nomi un po' più importanti non perché non lo siano quelli che non hanno poi la ribalta ma perché un po' più dirichiamo esatto se dovete fare cassa che è la cosa più importante esatto più importante e abbiamo invitato alcuni appunto nomi come dicevi tu della scena pugliese e anche nazionale ci sono i Radio Derwish appunto Domenica e poi Pippo Mezzapesa Andrea Cosentino Manuel Ferreira grandi nomi sia del jazz che del teatro che della musica sono contenta della nostra programmazione soprattutto perché la finalità è quella della beneficenza lo posso garantire una manifestazione che è in programma fino al 27 di novembre si è iniziata il 20 anzi è iniziata qualche settimana prima con un flash mob molto molto straordinario per Corato perché era il primo flash mob appunto del paese quindi si è movimentato un po' tutto il paese come è stato organizzato sono molto curiosa sì allora il primo flash mob è avvenuto in piazza di notte si sono spente tutte le luci della piazza e un gruppo di ragazzi ha cominciato a ballare con delle torce in mezzo alla piazza con la musica ad altissimo volume c'era la polizia che è venuta c'è una sommossa c'è la rivoluzione magari 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 appunto ma in realtà era una rivoluzione pacifica e artistica poi ho incontrato l'ispettore qualche giorno dopo che mi ha detto ma quando lo rifacciamo ma ha anche offerto il caffè quindi è andato tutto bene e poi il giorno dopo 375 ragazzi in piazza vestiti anni 50 tutti elegantissimi le ragazze con dei tacchi altissimi si sono divertiti a sfilare con la musica di Fellini e poi hanno ballato sulle note della dolce vita è stato veramente molto bello quindi anche queste immagini visioniche di questa cinematografia del bel tempo che fu che ha reso l'Italia poi tra l'altro famosa all over the world quanti fondi riuscite di solito a racimolare e come poi questi soldi vengono utilizzati e distribuiti perché credo sia un'informazione importante per poter stimolare a seguirvi sì allora per fortuna tutti i costi di organizzazione sono coperti da alcuni amici di Coraton che appunto ci donano fanno delle donazioni per la manifestazione tutto il ricavato invece viene dato in beneficenza quest'anno i beneficiari sono tre l'associazione italiana ciechi sezione di Corato perché puntiamo appunto al territorio poi una comunità per tossicodipendenti il Girasole sono peraltro realtà che non sarebbero conosciuti altrimenti se non venissero portate alla ribalta da queste manifestazioni e poi una casa famiglia della mamma che è nata da poco a Corato sempre autogestita autofinanziata e che ospita gioveni ragazzi e madri molto bene quindi azioni che poi diventano determinanti sul territorio e proprio per questo più visibili e proprio per questo perseguibili e quindi datevi da fare e credo che proprio in questo spirito anche il nostro amico abbia voluto accogliere questa iniziativa e ospitare questa iniziativa ma infatti è stata una cosa bellissima con gli organizzatori in una sera di due mesi fa ci siamo guardati negli occhi e ci siamo piaciuti dal primo momento e quindi noi abbiamo spalancato le porte della nostra nuova casa scusami ma abbiamo una mosca che si aggira negli studi nella nostra casa che è il public che è un contenitore un animalista come te fa queste cose stavo applaudendo a quanto stava dicendo su questa raccolta no io sono con le mosche proprio io sto così non era ecco punto no no continuate pure continuate ce la picchi smetti allora dicevamo il public ovviamente è stato persuaso dall'iniziativa dall'iniziativa e dalle parole di Claudia anche dal nostro modo di essere noi siamo un po' così il nostro pay off è We Believe in Music noi dobbiamo credere sempre in qualcosa anche in un momento dove è difficile credere in qualcosa ma noi ce la stiamo facendo e quindi giusto questo è un'altra aggiungo una cosa se mi permetti è la dimostrazione che non sempre il popolo della notte vive di sensazioni per dire così stupefacenti né si dà da fare con surrogati dalla realtà spesso il popolo della notte invece vive in prima persona delle azioni straordinarie di altruismo e di voglia di stare insieme ma infatti il popolo della notte è molto meglio di quanto si possa si possa pensare noi di notte dormiamo però siamo felici di sentire parlare voi di queste belle esperienze io che popolo della notte io sono il russo della notte non in senso di nazionalità e quindi è lì che si costruiscono le cose e quindi questa operazione con gli amici di Coraton rientra in un'operazione più grande che si chiamerà si chiama Giubilè per il sociale dove sposeremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni una serie di iniziative che faranno bene al nostro cuoricino bravi abbiamo un sito magari credo proprio del Giubilè dove poter capire fino al 27 come sono organizzati c'è il programma sul nostro sito che è www.giubilègroup.it slash public e poi c'è anche il Coraton.it quindi il sito ufficiale della manifestazione www.coraton.it oppure su facebook ci potete seguire quindi sarete informatissimi fino a domenica l'invito è rivolto non solo agli amici della BAT ma a tutti i pugliesi i nomi in programma sono veramente molto importanti quindi c'è anche la bandita lo dico perché nell'area qui in studio vedo qualcuno che fa parte della bandita che è una band straordinaria esatto una band che fa diventare giorno alla notte esatto e che dà proprio tantissimo ritmo ed energia 20 percussioni ma sono bei ragazzi questi della bandita sì alcuni uno non tanto uno non tanto no perché mi dicono che hanno un bel seguito femminile io non lo sapevo però è una bella notizia si chiama Gianni io l'ho scoperto nelle ultime ore sai ne sto sentendo parlare non solo diciamo sotto il profilo musicale anche sotto il profilo diciamo fisico fisico avremo tanti bei ragazzi quella sera ma voi sono sposati sono sposati con i figli non perdete tempo dietro a questi qua e fare un gestimento su quelli non sposati e allora amiche mie divertitevi e insomma godetevi quello che di buono la notte può proporre o di buono anche va bene allora grazie per essere stati con noi rimanete qui perché nel frattempo andiamo dalla nostra Eli perché insomma siamo quasi in chiusura tra l'altro prima di andare da Eli vi anticipo che anche oggi pronto dottore si svilupperà qui lo sgabbello sarà a disposizione di un nostro ospite graditissimo anche molto atteso il dottore Gidio D'Alena parlerà di tonsilliti straordinario molti di voi ci hanno chiesto di riaverlo in studio nella passata edizione di pronto dottore è stato spessissimo con noi ha parlato di tanti argomenti che uno torino la ringoiatra come lui sa ben trattare oggi nello specifico però se volete fare anche qualche domanda siamo a disposizione parlerà di tonsilliti quindi attrezzatevi per telefonare innanzitutto Eli in conclusione solo due commenti quello di Domenico perché noi abbiamo iniziato proprio con il presidente napolitano che aveva detto i figli di immigrati nati in Italia sono italiani al 100% quindi meritano la cittadinanza italiana Domenico dice chiunque viva stabilmente su questa terra la ami la rispetti può considerarsi per me italiano e poi un consiglio anzi due Giuseppe a proposito di un titolo di un libro da consigliare da regalare a Natale Giuseppe dice io consiglierei le Cosmicomiche di Italo Calvino per far sì che in Italia si possa chissà un giorno unificare scienza e letteratura invece che letteratura e filosofia in alternativa agli elementi di Euclide il libro più venduto di tutti i tempi dopo la Bibbia per ricordare un modo alternativo di lasciare il proprio testamento spirituale o patrimonio delle conoscenze non legato ad una sola lingua grazie grazie questa è una segnalazione strepitosa e allora va bene così anche se ci sono arrivati numerosi commenti devo dire a proposito dell'esternazione dell'assessore regionale al bilancio Pelillo che dice aveva promesso e noi naturalmente ne chiederemo conto nelle prossime settimane ha promesso che non aumenteranno le tasse in Puglia con il prossimo bilancio e in sintesi vi dico che i nostri internauti non ci credono noi staremo a vedere un po' di scetticismo ci sta perché nuovamente è di nuovo la benzina quindi insomma l'assessore Pelillo ci sta un po' di scetticismo a lei la possibilità di dimostrare come ha detto il contrario sapremo ricrederci e a questo punto prima di salutarvi e dare la linea alla pubblicità e poi ritornare con pronto dottore e quindi parlare di tonsilliti io vi ricordo che per fare domande al nostro ospite in studio il dottor Regidio D'Alena è possibile telefonare al numero verde 800 098 729 parleremo di tonsilliti tra pochissimo subito dopo la pubblicità nello spazio dedicato a pronto dottore a tra poco